Elsa Osk Elsa Osk, la modella di Victoria's Secret si rifà il look Top model svedese classe 1988, Elsa Osk è uno dei più amati tra i Victoria's Secret Angels. Qualche settimana fa, ha optato per un cambio di look, i capelli biondi, che prima le arrivavano a metà schiena, si fermano ora sotto l'orecchio. E lei li porta a seconda del momento, liscissimi, come fossero spaghetti, oppure mossi a effetto naturale. Il bob, un taglio perfetto. Ce la ricordiamo così, Elsa Osk, coi lunghi capelli mossi a coprirle quasi tutta la schiena. . Oggi, la modella svedese, sfoggia però un taglio più corto. Più sbarazzino, più rock. . Le sue beach vaves che paiono essere una prerogativa di ogni angelo di Victoria's Secret che si rispetti, tanto più se la modella in questione è bionda biondissima hanno lasciato il posto a un bob super chic, studiato dalla sua hair stylist Daniele Priano. . Una caschetta che, lungo fin sotto l'orecchio, può essere portato liscissimo con l'aiuto di spazzola iPhone, ed eventualmente di una piastra oppure, come Elsa o Skam a fare, leggermente mosso. Come se i capelli fossero stati lasciati ad asciugare all'aria. . Commentando il suo nuovo look, la supermodella svedese scriveva, Capelli corti non vi temo. Aspettavo questo taglio d'anni. . Finalmente ora l'ho fatto, e finalmente mi sento me stessa. . Come a dire, non tutti gli angeli sono uguali e in effetti, Elsa ora si differenzia. . E, nel mare di bellissime con cui sfila, si caratterizza per quella sua aria un po' ribelle. . E se, durante l'estate col caldo e l'umidità, la piega perfetta per il taglio è leggermente mossa e del tutto naturale, durante la stagione più fredda è possibile stirare i capelli. . Che hanno una lunghezza pari, e che sono eleganti con qualsiasi outfit. . . Basta vedere il profilo della Osc, per rendersene conto, sotto un cappello dallo stile grunge o una visiera sportiva, abbinato a un blazer maschile o ad una camicia di jeans, il suo bob è il taglio perfetto. . . . Per praticità, ma anche per lunghezza, non è troppo lungo da risultare fastidioso, ma lo è abbastanza per poter essere raccolto in uno chignon da ballerina. . . Come Elsa o Skam a fare. . L'amore per la lingerie. O forse no?. . Con qualsiasi taglio, peraltro, Elsa o Skam è una vera bomba sexy. . E, nonostante sia una tra le testimonial del più famoso brand di lingerie di sempre, si può dire che preferisca e l'assenza di lingerie. Spesso, infatti, la top model viene pizzicata con qualche centimetro scoperto di pelle di troppo. . . L'ultima volta è successo lo scorso settembre. . 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